... partite Martina Gianetti e Giulia Fossari Giulia l'ha presa di vantaggio per lei e sono ancora pagata ancora pagata per Giulia Martina va e ne approfitta insegue Giulia e Martina macina prese vola sulle prese vola anche Giulia cercando di recuperare il piatto che lo si fa da Martina ma chiude per prima in 21 e 97 Martina Gianetti e via Leonardo Conte una grande sfida questa la tecnica incredibile di Leo in quella sezione di gara che vola sulle prese l'uno stenta il tutto per tutto 12 e 41 e la tempo di Leo Conte è importante e la vittoria quest'oggi la VISA dopo la prima tappa di King Rock il VISA di nuovo per Martina Gianetti e per Leonardo Conte grande giornata di gara per noi ci rivediamo nel pomeriggio tra poco vedremo la tecnicistica grazie 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 Grazie.